ciao ragazzi e bentornati sul mio canale è da tempo che volevo fare questo video ci provavo ma non riuscivo mai a completarlo oggi finalmente mi sono deciso mi sono messo d'impegno e sono riuscito a registrarlo tutto e ad editarlo uno dei miei passatempi qui su youtube oltre a caricare video e anche guardarli soprattutto i video che mostrano le officine e i metodi di sistemazione e trasporto degli attrezzi da lavoro tutto quello che riguarda l'elettronica e il mondo del fai da te insomma adoro vedere cos'è presente nella cassetta attrezze degli altri maker personalmente cambio spesso la disposizione della mia ogni qual volta acquisto un nuovo attrezzo oppure devo andare a fare dei nuovi lavori esistono tantissimi attrezzi cose davvero belle che se siete amanti del fai da te come me anche voi vorreste navigando spesso sull'app di amazon mi capita di vedere nuovi tools kit di valigie attrezze già belle pronte utili per chi vuole acquistare un nuovo set di attrezzi o magari si sta addentrando nel mondo del fai da te delle volte i prezzi di questi kit sono davvero esagerati e mi viene da pensare ma quanto ho speso io negli anni per realizzare la mia di borsa attrezzi oggi voglio provare a stilare una specie di lista spesa aggiungendo al carrello di amazon tutti gli attrezzi che una persona dovrebbe possedere se ha in mente di esercitare la professione dell'elettricista perché fondamentalmente quello è stato il mio primo lavoro serio partiamo con dei presupposti primo non mi darò alcun budget iniziale acquisterò solo utensili di qualità non badando a spese ma solo alla loro durata nel tempo secondo non acquisterò proprio tutto ma solo l'indispensabile per poter eseguire i lavori base e tirar fuori lo stipendio a fine mese terzo dove è possibile cercherò di risparmiare acquistando l'alternativa economica ma comunque valida quarto acquisterò solo ed esclusivamente su amazon con il mio account personale che sicuramente influencerà la scelta dei prodotti magari per qualche ricerca fatta in precedenza sullo store quinto ed ultimo punto la scelta di ogni prodotto dipenderà esclusivamente dal mio gusto personale ed anche dall'esperienza che ho acquisito negli anni direi di metterci davanti al pc e iniziare il nostro finto shopping il primo oggetto che dovremmo scegliere è sicuramente la borsa o la valigia degli attrezzi qui ci dobbiamo veramente soffermare tanto perché davvero importante capire cosa ci piace e se ciò che ci piace può essere realmente utile e facile da utilizzare dovrà contenere tutti gli attrezzi che dovremo portarci con noi su ogni cantiere facciamo veramente molta attenzione pensiamo sempre che una volta piene peseranno un botto possiamo già fare una prima suddivisione tra valigia rigida o morbida ne sceglieremo un paio poi dopo faremo un'ulteriore selezione direttamente nel carrello io utilizzo una borsa morbida con fondo rigido della stanley ce ne sono di tutti i gusti anche a forma di trolley per un facile trasporto la mia è questa stalle fat max fm 71 73 607 ma oggi voglio proporvi un'alternativa molto più valida e dedicata proprio ai tecnici cerchiamo ck magma anche di questa marca esistono svariati modelli zaini borse o trolley scelgo questa modello ma 26 40 molto simile a quella che posseggo ma decisamente più costosa se volete risparmiare come ho fatto io puntate al modello della stanley va benissimo vediamo un modello rigido adesso puntiamo sulla knipex che conosco e so già quanto sia valida bene le borse le abbiamo scelte pensiamo agli attrezzi adesso primo attrezzo che ci servirà sicuramente è la forbice da elettricista qui non perdo tempo punto tutto sulla usag 207e so già che per me è la migliore set di cacciaviti ne serviranno almeno un paio un modello isolato ed uno normale direi di acquistare un kit come questo che utilizzo da un paio di anni e mi ci trovo benissimo questo cacciavite multipunta è uno dei migliori in circolazione io lo aggiungerei anche se il costo è un po' elevato per il modello classico io utilizzo questi pinze e tronchesi la scelta qui è totalmente personale l'unico consiglio è quello di puntare su marchi noti davvero molto carino questo della beta lo aggiungiamo al carrello scegliamo questo kit della knipex e aggiungiamo anche una piccola tronchesina taglio raso questa della knipex è davvero carina cutter qui c'è l'imbarazzo della scelta fate un po' voi io ci metto nel carrello un usag e ci aggiungo anche una sguaina cavi un bel martello sempre usag uno scalpello usag prendiamo il modello nervato un seghetto questo mini seghetto della beta può già andare bene ed un set di lime anche questo della work pro dove ci sono lime e raspe preche sembra davvero molto carino un set di brogole queste della usag sono il massimo un kit di cacciaviti di precisione con bits questi sono molto utili quando bisogna svitare viti particolari presenti oggi su molte apparecchiature citofoni o kit d'allarme questo mi piace aggiungiamo al carrello anche questo è davvero carino poi sceglieremo dopo come potete come potete notare non ho applicato nessun coupon perché potrebbe non essere disponibile successivamente e voglio pagare il prezzo pieno un piccolo set di chiavi combinato sia fisse che a cricchetto ed anche a bussolotto ovviamente usag per i bussolotti anche questo economico potrebbe andare bene ricordiamoci che questa è la valigia di un elettricista una bella pinza spela fili della knipex questa è molto valida ma potrebbe anche andare bene il modello della kaiwitz che ho recensito nel video precedente ovvero questa aggiungiamo il carrello e ci aggiungiamo anche una crimpatrice nella descrizione in basso vi metto anche il link per andarvi a vedere quel video strumenti di misura un bel metro a rullino questo flessometro da 5 metri va più che bene una livella a bolla prendiamo questa della milwaukee anche una bella lampada da testa questa si trova in offerta l'ho già acquistata proprio ieri scegliamo il multimetro ne prendiamo uno multifunzione questo è ottimo prendiamo anche questo un cercafase non deve assolutamente mancare questo è molto carino ed infine una sonda passacavi 15 metri sono più che sufficienti adesso ci rimangono da scegliere solo gli elettro utensili escludendo il ti che mi sembra davvero troppo costosa per iniziare i marchi su cui affidarsi si contano veramente sulle dita di una mano abbiamo bosch milwaukee makita riobi ed infine dewalt avremo bisogno di almeno un trapano avvitatore a batteria ed un tassellatore elettrico direi di puntare al massimo e acquistare i modelli della makita questo è davvero una bomba così come questo questo come avvitatore e questo come tassellatore un bel set di punte sia sds che normali io con le bosch mi ci sono trovato sempre bene prenderò ancora quelle penso di non aver dimenticato nulla ovviamente penna matita e carta dovranno trovarsi sempre nella borsa ma mi sembrerebbe inutile andare a ricercarli su amazon adesso tutto è nel carrello facciamo un'altra piccola scrematura e poi vediamo qual è il prezzo finale cosa possiamo eliminare dal carrello scendiamo verso il basso e puntiamo a valigia rigida oppure morbida della ck allora ragazzi qua sono veramente combattuto io adoro le valigie morbide ho la possibilità di inserire la tracolla è molto più comoda la rigida sinceramente la escluderei per adesso quindi rimuoviamo la valigia rigida saliamo quali set di cacciaviti? io ho utilizzato soltanto questi ma so veramente che questi sono il top per risparmiare spazio all'interno della nostra borsa rimuoviamo quelli della nielsen o nielsen e ci teniamo quelli della wia gli usag li lasciamo anche qui knipex o beta pinze isolate fino a 1000 volt oppure queste della beta siccome stiamo realizzando la valigia dell'elettricista eliminerei queste della beta qui lasciamo stare tutto così com'è eliminiamo queste della work pro queste le trovo davvero molto carine hanno il loro astuccio rimuoviamo anche questo visto che ha il tappetino che a noi non serve come spelafili le lasciamo entrambe perché sono sempre utili ragazzi ma dobbiamo pur risparmiare quindi rimuoviamo a male in cuore quella della kaiwitz come multimetro ma si dai questo diciamo che è un accessorio un po' opzionale rimuoviamo anche questo da qui in poi tutto quello che è presente all'interno della lista sarà di vitale importanza per il nostro lavoro quindi lasciamo tutto bene ragazzi il prezzo di una valigia da elettricista seria che vi permetta di eseguire moltissimi lavori in piena tranquillità è di 1163,26 euro quindi servono 1200 euro ragazzi fatevi il segno della croce so che cercando su amazon esistono kit che costano molto ma molto meno ma non ci sono tantissimi attrezzi che abbiamo selezionato noi e che sono di vitale importanza non prenderei mai un lavoro senza quel minimo di attrezzatura spero che questo video ragazzi vi sia piaciuto io ho cercato di darvi i miei consigli sicuramente avrò commesso tantissimi errori e molti di voi mi scriveranno nei commenti ma guarda ti sei dimenticato questo ti sei dimenticato quello non c'è bisogno di acquistare tutto questo basta semplicemente quest'altro lo so ragazzi ve l'ho detto all'inizio questo è un video che rappresenta ciò che farei io quello che voglio io e gli attrezzi che acquisterei io per fare un determinato lavoro troppo elevato come costo ho sperperato troppo denaro chi se ne importa di sicuro parliamo di attrezzatura che rimarrà per sempre all'interno della vostra valigia difficilmente si romperanno difficilmente li andrete a sostituire ricordate che chi più spende meno spende mi raccomando iscrivetevi al mio canale mettete like al video e condividetelo aiutatemi a crescere e se volete gli attrezzi che ho praticamente elencato potete acquistarli dei miei link che trovate sicuramente nell'articolo che scriverò dedicato a questo video ciao ragazzi stata va buena grazie a tutti grazie a tutti